Signori buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi conosceremo meglio Mike. Prendiamo lei. Mike è la persona che ha riscosso più successo nel video con la Lamborghini STO. Ma che è che posso tenermi? E dato che diversi commenti dicevano più video con Mike, oggi nuovo video con lui. Mike! Lo sai che sei il personaggio più richiesto del canale? Lo so, lo so, dopo il poll... Adesso andiamo a mangiare il pollo. Già il braccio fuori, proplex. Non ci sto, sono grosso. È il pollo che mi ingoffia. C'è qualcuno? Sì. Sì. Ecco, ma che ti cavalli ha sto coso? Signori e signori, ecco voi Mike Degola. Cosa mangiamo? Pollo. Il pollo rafforzante. 9 euro al pagamento, grazie. Chi è contro dei cerchi? No, pago io, pago io. Paghi tu. Sei mio ospite oggi, Mike. Grazie. Cosa fa? Va dopo? No, adesso, Mike. Adesso? Non ti sei matto. Mi puoi far sporcare, Diego. Sì, ma dai la possibilità di scendere. Non lo so. Vecchio, sei matto. Vuoi un po' di coca? No, 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 quella no. No, vai che non c'è la cannuccia. L'ho trovata, l'ho trovata. Vistra. E aspetta un secco... No. No. Ma quel è il mio gelato? No. Ma perché t'ho voluto portare sui colli? Già ripensato. Dalla paura ho finito il panino prima del normale. Poi adesso mi vuoi fare spalmare la coca cola in faccia. Cioè, ma che io li vedo in video su Instagram quando ci sono... Sì, sì. Questo è il peggior pranzo della mia vita, te lo giuro. Passami una crocchetta, per favore. È arrivato il momento della cosa più famosa di tutto il video. Il pullo rafforzante. Perché tu che la devi mangiare? Una crocchetta. Non è che mi rovesci tutta la coca che fai in macchina, vero? Ma... Porco... Non è che è partito. No. No. Cos'è? Mi rovesci tutta la coca, vecchio. Ma si parte via tutto, Dio. Ma... Mangio, vecchio. Cioè, mi fai un'attirata storta. Cioè, finisco all'altro mondo. No. Cosa? No. 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 Io so che dopo da lavar la macchina, Dio... No. No. Aspetta, aspetta, aspetta. A casa. No. Vecchio. Vecchio. Torno a casa salvo in salvo, vero? Spero di non imbrattare le mutande Mike, quanto casino hai fatto in macchina? Questo è stato tu, con le derapate, tutte le tirate Facci vedere i danni che hai fatto Ma quello è il primo Ok Ma questo è stato tu quando hai tirato Ma se è stato tu con una curva a destra Qua tu con una curva a sinistra Qua Questo telefono ormai è fatto tutto Manca una roba peggiore di tutte Questo È sempre stato tu Non viene via niente Ecco io non vio via Non viene via niente È inutile, rimane appiccicata Mike, questo è il dolce È il tuo dolce È buono però Non ha un bel aspetto ma è buono Adesso ho finito il pranzo, ci aspetto un po' di lavoro Un'ora di pulizia della macchina Ce la possiamo fare Ce la facciamo Mike Allora adesso andremo In avanza scoperta di queste due case abbandonate E poi sì andremo a lavare lei Vai Michi ti seguo Stai l'entrata Abbastanza distrutta Non sei mai andato Michi su? Dai vai Dai Andiamo Michi non vuole venire la mal scoperta con noi Michi guarda il tetto Mattio ma tu sei fuori di testa Finestra con vista Stanza numero uno Io non starei tutti fermi allo stesso posto Direi un metro di distanza quando camminiamo In modo tale da non sovraccaricare troppo il pavimento Oh No L'hai trovato qua? No è mio Poi lo sai Altra stanza Michi attento Tu sei fuori di testa T'ho visto Ma chi c'è ancora? Oh Cazzo Ma chi vuoi la miseria? Eh Ah Michi 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 Che schifo Ti puoi cagare Dove andiamo adesso Michi? A vedere il pollaio Michi ti sporchi le scarpe nuove Cuccia del cane e qualcos'altro Dammi la mano ma posso fare i due C'è Ci vedi qualcosa? È la tana del lupo Qua mi porti a Alla casa del dono Ah oh guard Andiamo Dai Vai Non ti vedo convinto però Non sei molto promotor Vietato ai minori Ok sembra si riesca a passare Merda vecchio Mi è venuto un crampo della madonna Vecchio Ma stai scherzando Ma che ma stai scherzando? Cazzo era? Dile Vieni per favore anche te Dai che ci sei la mia mano Miki Non ci casco più Un'altra stanza E la stanza di Miki Passa la mia camera ragazzi La mia camera ragazzi La casa del dono Per quest'oggi Non ho mai colto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.